desidero ringraziare il signore innanzitutto per questa opportunità che ancora mi dà di essere qui con voi una serata un po particolare visto l'argomento che abbiamo iniziato la volta scorsa a trattare come avevo avuto modo di dire non si tratta di una predicazione vera e propria come noi siamo abituati a sentire ma il mio vuole essere proprio un aiuto sia per voi cioè per interagire con dei personaggi particolari che abbiamo iniziato un po a vedere la volta scorso ovvero i testimoni di geova e sia anche per aiutare loro stessi pensate che dunque io sono venuto qui due mesi fa più o meno pensate che il video che ho messo ha superato le mille visualizzazioni perché ci sono state tante condivisioni di questo video ascoltati anche da dei testimoni di geova che ovviamente hanno reagito al video che ho posto che ho messo immaginiamoci adesso quando metterò questo iniziamo a trattare possiamo dire quello che è il cavallo di battaglia della torre di guardia ovvero la negazione della divinità di cristo vedremo che per loro dire che gesù è dio ha un significato del tutto diverso dal significato che diamo noi che riteniamo essere biblico ovvero che gesù è dio onnipotente la domanda che io ho messo non è per instillare un dubbio nei nostri confronti per noi ma è il titolo che tra poco vedremo dell'opuscolo e del libretto che gira che è stato edito pubblicato dalla torre di guardia proprio per indottrinare i testimoni di geova sulla negazione della triunità di dio o trinità e di conseguenza ecco che è questo dovreste credere nella trinità questo opuscolo questo libretto i testimoni di geova lo conoscono a memoria perfettamente è un libretto non tanto lungo ma dove vengono prese citazioni su citazioni di anche di cattolici anche di protestanti anche di però purtroppo come molto spesso accade le citazioni che vengono messe sono un po storpiate cioè non viene citata tutta la frase ma magari soltanto una parte ma adesso andremo a vedere un pochino questo aspetto allora quando noi parliamo con un testimone di geova generalmente non ci porta su questo argomento ma nel momento in cui noi diciamo almeno questa è stata la mia esperienza quando noi diciamo che siamo cristiani evangelici quindi come dicevamo la volta scorsa nelle loro cinque adonanze settimanali loro fanno delle simulazioni quindi loro sono abituati a parlare con possiamo dire una casistica abbastanza grande di persone dall'ateo al cattolico al buddista anche all'evangelico quindi loro sanno precisamente al momento in cui noi ci presentiamo come cristiani evangelici come approcciarci perché il desiderio che hanno loro è lo stesso desiderio che abbiamo noi nei loro confronti ovvero quelli è quello di presentare il gesù della bibbia mentre invece il loro obiettivo chiaramente è quello di indottrinarci per quanto riguarda quella che è la loro dottrina naturalmente questo studio sulla divinità di gesù sebbene io l'abbia strutturata proprio su questo argomento riguardante i testimoni di geova il mio desiderio veramente è che il nostro cuore possa giurire mentre noi vedremo tutta una carellata di passi tutta una carellata di versetti che ci presentano la grandezza di gesù non dobbiamo mai stare o focalizzarci soltanto su quello che è l'obiettivo possiamo dire primario che è come evangelizzare come parlare come portare un testimone di geova alla conoscenza della verità del vangelo ma questo studio riguardante la deità o divinità del signore gesù vuole essere anche motivo di incoraggiamento per ciascuno di noi perché il signore ha promesso che due o tre sono radunati nel suo nome egli è presente e tante volte anche noi corriamo il rischio di perdere di vista quella che è la grandezza del signore gesù la grandezza del signore egli non è soltanto l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo ma è anche il leone della tribù di giuda che tornerà per giudicare quindi noi dobbiamo sempre avere ben presente questo allora un primo passo che noi siamo chiamati a fare per dimostrare che si parla proprio di dimostrazione biblica in un termine un po tecnico è apologetica cosa l'apologetica è la difesa della fede cioè difendere ciò in cui credo biblicamente parlando da un punto di vista biblico abbiamo detto la volta scorsa che il testimone di geova ha rispetto della bibbia crede nell'inerranza della bibbia crede anche nella letteralità della bibbia ma purtroppo purtroppo ha una bibbia che come noi avremo modo di vedere non tanto oggi ma magari la prossima volta tanti brani sono stati manipolati dalla torre di guardia qualcuno lo vedremo questa serie allora parallelo abbiamo detto tra antico e nuovo testamento cosa vuol dire parallelo tra antico e nuovo testamento come posso dimostrare biblicamente parlando che gesù è dio facendo innanzitutto un confronto con ciò che viene detto del signore gesù nell'antico testamento e che si è perfettamente adempiuto nel nuovo testamento quindi questa si chiama queste si esterne cioè non passi che dicono chiaramente che gesù è dio ce ne sono li vedremo ma non questa sera non vedremo questi versi ma piuttosto vedere cosa dice l'antico testamento cosa dice il nuovo testamento e di chi si sta parlando questo è quello che noi siamo chiamati a fare perché i versetti che noi vedremo nella traduzione del nuovo mondo sono più o meno come tradotti nelle nostre bibbie quindi non c'è differenza e nel momento in cui noi portiamo a far ragionare un testimone di giro dicendogli ma di chi si parla qua come mai gesù realizza quei brani dell'antico testamento allora proprio per risparmiare tempo ho trascritto questi versi cerchiamo di focalizzarli perché magari avere degli appunti magari avere un quaderno con scritti questi versi ci può aiutare allora isaia 43 11 io io sono il signore e fuori di me non c'è salvatore nella traduzione del nuovo mondo al posto di signore trovate geova non cambia tanto cioè si potrebbe disquisire sul nome geova se è giusto o sbagliato ma non è questo l'argomento se noi avessimo me lo sono dimenticato la prossima volta che la porto la traduzione del nuovo mondo c'è scritto io sono geova e fuori di me non c'è salvatore uguale vedete che il signore maiuscolo sta per yahweh ovvero il tetragramma ebraico che si trova sul codice di leningrado perché voi sapete che il codice di leningrado datato 1800 1 0 0 8 dopo cristo è il manoscritto che viene preso dalle società bibliche odierne per tradurre l'antico testamento quindi quando si incontra il tetragramma y h w h voi trovate nella nuova riveduta signore il maiuscolo sono convinto che lo sapevate ma è bene ricordare questo quindi di chi si sta parlando qua dell'eterno è l'eterno è dio è geova se ne parliamo con testimoni di geova è geova che dice fuori di me non c'è salvatore questo fuori di me non c'è salvatore vuol dire che non c'è nessun altro che si può arrogare il diritto di definirsi salvatore secondo brano isaia 45 capitolo 45 e versetto 21 spero che riusciate a vedere là in fondo proclamatelo fategli avvicinare si consiglino pure assieme chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi e li ha predette da lungo tempo non sono forse io il signore anche qui vedete il tetragramma fuori di me non c'è altro dio dio giusto e non c'è salvatore fuori di me quindi vedete che viene specificato sottolineata la stessa lezione con l'aggiunta fuori di me non c'è dio e quindi per quale motivo gesù viene chiamato viene definito tale nel nuovo testamento se fuori dell'eterno non c'è altro dio isaia 33 22 poiché il signore è il nostro giudice il signore è il nostro legislatore il signore vedete per tre volte il tetragramma quindi nella traduzione nella tnm traduzione nuovo mondo trovereste geova 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 è il nostro re egli è colui che ci salva quindi chi è l'autore della nostra salvezza è l'eterno stiamo a questo a questi brani è il signore degli eserciti è geova e nessun testimone di geova può dire il contrario anche lui dirà certo geova è il nostro salvatore poi andiamo al nuovo testamento ecco qui la correlazione matteo capitolo 1 e versetto 21 nasce gesù e a un certo punto leggiamo matteo 1 21 ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati allora il bello di studiare la parola di dio è che più noi la studiamo e più veramente noi abbiamo motivo di glorificare il signore per quelle verità che lui ha rivelato all'interno della sua parola per quale motivo l'angelo non dà un altro ordine lo chiamerai ruben lo chiamerai efraim lo chiamerai giuseppe lo chiamerai no yeshua gesù perché per il significato che ha il nome joshua o gesù ovvero salvatore che anche josue se vogliamo no a questa radice ma il nome josue quando noi parliamo di josue il condottiero del popolo di israele non troviamo nessun versetto che ci sia scritto tu gli porrai nome josue perché sarà lui a salvare il popolo dei suoi peccati c'erano altri gesù nel popolo di israele che si chiamavano così non c'era soltanto il nostro signore gesù che si chiamava così ce ne erano tanti nel libro degli atti ricordati si parla di bar gesù che è un altro gesù ma il nome nell'ottica della cultura ebraica indicava tantissime cose tra cui il futuro di quella bambino o ciò che sarebbe diventato quel bambino in questo caso gesù non è che diventa salvatore è il salvatore che è nato che è entrato nella scena mondiale che è pronto a compiere l'opera che dio padre gli ha affidato sarà lui a salvare il suo popolo dei loro peccati ma cosa abbiamo letto prima fuori di me non c'è salvatore allora o c'è contraddizione nell'antico testamento o dio si è sbagliato oppure c'è qualcosa che noi dobbiamo capire dobbiamo comprendere gesù è salvatore ma dio dice fuori di me non c'è salvatore e allora cosa ci sono due salvatori ci sono due salvatori diversi uno più grande uno più piccolo non troviamo nessun versetto che che fa questa differenza perché il figlio dell'uomo e qui è proprio gesù che parla luca capitolo 19 versetto 10 perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare salvare ciò che era perduto nessun uomo di dio nemmeno quello più fedele possiamo contemplare mosè possiamo pensare ad abramo possiamo pensare a giosuè possiamo pensare a davide nessuno poteva dire frasi così nessuno poteva dire io sono venuto per cercare salvare ciò che era perduto io sono venuto per salvarti dei tuoi peccati nessuno lo poteva nessuno e quando gli ebrei al tempo di gesù ascoltavano queste parole il loro cuore si adirava il loro cuore ribolliva di sangue perché dicevano ma chi pensa di essere questo qua ma chi pensa di essere addirittura perdoni peccati ma solo dio può farlo quindi gli ebrei capivano benissimo nella loro concezione monoteistica capivano benissimo ciò che gesù stava dicendo e non lo volevano accettare purtroppo esattamente quello che fanno i testimoni di gioco non accettare questa uguaglianza che vi è tra il padre e il figlio atti 4 12 questo brano che conosciamo benissimo vero parole dell'apostolo pietro in nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati quindi si parla di un'esclusività di salvezza in nessun altro dice pietro è la salvezza ma queste parole non le aveva forse dette geova nell'antico testamento fuori di me non c'è salvatore allora vedete che quando noi facciamo questa sorta di correlazioni e non è certamente l'unica che possiamo fare adesso vedremo altri punti è ovvio che io mi devo fermare a riflettere se io ho a che fare con una persona che è aperta una persona che ha la ricerca veramente della verità non potrà fare a meno di riflettere e per quanto riguarda noi noi possiamo gioire per questa correlazione tra il padre il figlio è salvatore uno è salvatore l'altro uguale non c'è differenza del più grande o del più piccolo uguale quindi in questi brani cosa abbiamo visto l'unicità di dio come salvatore l'esclusività di dio come salvatore fuori di me non c'è salvatore gesù è visto come salvatore del mondo e non esiste altro nome forché quello di cristo per essere salvati possiamo procedere dio e gesù hanno lo stesso appellativo di redentore quindi non soltanto salvatore ma anche redentore isaia capitolo 52 versetto 9 l'eterno redime gerusalemme isaia 1 27 sion sarà redenta mediante la retitudine e quelli che in lei si convertiranno saranno redenti mediante la giustizia luca capitolo 2 versetto 37 qui abbiamo un bellissimo esempio di anna no la profetessa che è scritto non si partiva mai dal tempio servendo dio notte giorno con digiuni e preghiere ma quando sopraggiunse e vide il bambino gesù si mise a lodare dio anche lei e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di gerusalemme io non so fratelli e sorelle qui apro chiudo parentesi se avete mai fatto uno studio sulle donne della bibbia io ve lo consiglio perché non ci sono soltanto gli uomini di dio ci sono anche le donne di dio nella bibbia e una di esse è proprio questa donna guardate che cosa dice questa cosa dice anna parlava a tutti quando vide quel bambino parlava a tutti quelli che aspettavano la redenzione a gerusalemme è arrivato il redentore è arrivato finalmente arrivato e il signore usa questa donna come testimone esattamente come più avanti gesù userà le donne per testimoniare della sua risurrezione è interessante vedere come dio si è servito anche delle di certe donne per trasmettere il suo messaggio perché pure lei credette che gesù era colui che avrebbe redento gli abitanti di gerusalemme ma isaia 52 cosa dice geova ridime gerusalemme è geova che ridime la sua città e gesù perché è il redentore di gerusalemme per quale motivo come si fa a negare questa uguaglianza isaia 52 versetto 3 poiché così parla l'eterno voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza denaro è vero fratelli e sorelle il nostro riscatto non è avvenuto dirà pietro mediante ove argento ma mediante il prezioso sangue di cristo noi siamo stati riscattati grazie a lui è lui che è andato sulla croce proprio ieri è venuto il paroco del nostro paese per benedire la casa ovviamente abbiamo rifiutato e sono stato a parlare un'ora con questo sacerdote e quando lui cercava di portarmi di portare il discorso su maria gli ho detto donando si chiama donando un signore anche molto affabile molto ma sulla croce chi c'è andato ma c'è andata maria sulla croce ma è stata maria che ci ha salvato dei nostri peccati è stata maria che ha versato il suo sangue con tutto il rispetto e l'amore che posso avere per questo esempio di fede c'è andato cristo lui c'è andato sulla croce è come se io andassi da da un chirurgo o un brutto male però dico no io voglio farmi operare da tua mamma e che non ha mai studiato medicina sarei un folle sarei un pazzo ma vado da chi ha studiato medicina no anche se è il figlio così il signore gesù è lui che è nato sulla croce fratelli solle ricordiamoci di questa verità che corriamo il rischio magari di dare troppo per scontate e che noi vedete dimentichiamo il salmista nel salmo 107 dice celebrate l'eterno poiché egli è buono perché la sua benignità dura in eterno così dicono i riscattati dall'eterno i riscattati dall'eterno che egli ha riscattato dalla mano dell'avversario è ovvio che qua si parla nel contesto della liberazione dai propri nemici dai nemici del popolo di israele ma vedete come l'antico testamento confluisce l'opera della redenzione all'eterno è lui l'autore della redenzione è lui l'autore della liberazione sotto tutti i punti di vista ma che cosa dice l'apostolo paolo a tito tito 2 14 ha dato se stesso per noi al fine di riscattarci da ogni iniquità non dice il padre ha dato se stesso fratelli e sorelle tante volte nelle preghiere personalmente io ho sentito questo padre ti ringrazio perché sei morto sulla croce dove sta scritto questo è il figlio che è morto sulla croce non il padre dobbiamo stare attenti anche come noi ci esprimiamo perché padre e figlio sono due persone distinte non sono la stessa persona sono due persone distinte ugualmente dio ugualmente perfetti in tutti i loro attributi non possiamo capire questo ma è rimane il fatto che sulla croce si è nato il figlio nell'autore della lettera agli ebrei è il figlio che dice tu mi hai preparato un corpo tu chi un angelo l'arcangelo michele no tu padre mi hai preparato un corpo per incarnarmi per farmi uomo e per morire per dei criminali quali noi eravamo dobbiamo stare attenti anche come noi ci esprimiamo Galati capitolo 3 versetto 13 Paolo dice Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi è lui che ci ha riscattato e l'antico testamento dice l'eterno riscatto anche qui non c'è il redentore più grande e il redentore più piccolo perché altrimenti si andrebbe in contraddizione l'unico redentore è l'eterno ma essendo che il nuovo testamento confluisce l'opera di redenzione al signore Gesù anche Gesù è eterno andiamo avanti bellissimo questo eh Dio e Gesù Dio qua intendo il padre naturalmente Dio padre e Gesù sono entrambi portatori di speranza e sono identificati in essa è molto bello questo Dio non è soltanto colui che dà speranza Dio è la speranza è la stessa cosa il signore Gesù guardate che cosa dice il salmista tu sei la mia speranza o signore o eterno quindi qui il salmista si sta rivolgendo a Yahweh a Dio e lo chiama mia speranza vedete c'è questa identificazione della speranza in una persona che è il signore ma anche in Geremia 17 leggiamo speranza di Israele o eterno tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi perché hanno abbandonato l'Eterno speranza di Israele non soltanto dai speranza tu sei la nostra speranza dice il popolo di Israele ed è interessante vedere anche qui apri chiudo parentesi come ultimamente il presidente dello stato di Israele Netanyahu si sta esprimendo sentitele le interviste ascoltatele magari lo avete fatto è interessante è interessante ma quando Paolo scrive a Timoteo guardate come si presenta Paolo apostolo di Cristo Gesù per ordine di Dio nostro salvatore e di Cristo Gesù nostra speranza questa nostra speranza non è riferito a Dio è riferito a Cristo all'ultimo nome che viene citato Cristo nostra speranza ma se non ci fosse questa uguaglianza in termine teologico si dice ontologica cioè uguaglianza di natura ma per quale motivo Paolo che era un ebreo assolutamente rigido poteva dire Cristo Gesù nostra speranza ma in nessun essere umano io posso dire tu sei la mia speranza nemmeno mia moglie nemmeno i miei figli soltanto Dio può essere la nostra speranza ed ecco perché noi possiamo dire di avere delle certezze perché queste certezze non ce le ha date un uomo ma ce le ha date Dio e lo stesso fa il Signore Gesù vi ricordate un brano che non ho citato quando Gesù dice abbiate fede in Dio ma abbiate fede anche in me ma questa fiducia esclusiva nei confronti di Dio ma anche nei confronti del Signore Gesù proseguiamo domanda a chi doveva preparare la via il messaggero sapete a quale brano faccio riferimento no? Malachia capitolo 3 e versetto 1 questo versetto si è adempiuto perfettamente in un uomo Giovanni Battista profeta Malachia dice ecco io vi mando il mio messaggero però è l'eterno si parla eh io vi mando il mio messaggero egli preparerà la via davanti a me non dice davanti a un profeta non dice davanti a un mio servo davanti a me quindi davanti all'eterno Matteo 11 versetto 10 egli è colui del quale è scritto ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via dinanzi a te Zaccaria il padre di Giovanni Battista quando profetizzò disse e tu piccolo fanciullo sarai chiamato profeta dell'altissimo perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie parole che rivolge a Giovanni Battista profeta dell'altissimo perché andrai davanti alla faccia del Signore e noi sappiamo che Giovanni Battista è quello che ha preparato che ha spianato possiamo dire la strada per l'avvento del Messia del Signore Gesù la figura di Giovanni Battista l'uomo del quale il Signore dice non c'è uomo più grande di lui ma il più piccolo del Regno dei Cieli è più grande di Giovanni Battista studiate la vita di quest'uomo di quest'uomo che viveva nel deserto di quest'uomo che mangiava cavallette e locuste per nutrirsi di quest'uomo che ha un popolo corrotto e idolatra come era il popolo di Israele ancora ai tempi del Signore Gesù dice ravvedetevi razza di vipere serpenti ravvedetevi ravvedetevi e già gli scrive i farisei non gli andava tanto genio questo personaggio ma tanti seguivano Giovanni Battista ma quando arrivò il Signore Gesù quando il Signore Gesù iniziò in suo ministerio Giovanni Battista fa 30 passi indietro dice adesso dovete seguire lui il mio compito è terminato adesso dovete seguire lui è una figura straordinaria Giovanni Battista Giovanni 3,28 io non sono il Cristo è Giovanni che parla qui ma sono mandato davanti a lui io non sono il Messia quando gli fecero questa domanda sei tu il Messia? la stessa domanda anche se lì non si parla di Messia ma del figlio del Benedetto è il suo il profeta Malachia annuncia la venuta di un messaggero che avrebbe preparato la via di Yahweh e tutto questo si è adempiuto nella persona di Giovanni Battista che preparò la via al Signore Gesù ancora un'altra domanda chi vide Abramo? sapete che Abramo ad un certo punto in Genesi 18 incontra tre personaggi uno solo dei quali Abramo lo identifica nell'Eterno gli altri due sono messaggeri sono angeli che avranno il compito di salvare Lot dalla distruzione di Sodoma a un certo punto Gesù che cos'è che dice in Giovanni 8 Abramo vostro padre ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato al che i giudei gli dissero tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo e Gesù disse loro in verità in verità vi dico prima che Abramo fosse nato io sono adesso vado qua perché qui abbiamo una differenza quando voi parlate con un testimone di Geova e voi leggete Giovanni 8 58 voi leggete in verità in verità vi dico prima che Abramo fosse nato io sono nella traduzione della Nuova Monda è così forse è nell'altra slide allora forse è quella dopo no niente lo trovo indietro se riusciamo lo vediamo comunque nella TNME io c'ero non io sono io c'ero vedremo quale nel testo greco è più precisa in Genesi 18 abbiamo il brano che dicevamo prima l'Eterno apparve ad Abramo alle querci di Mamre mentre questi sedeva all'ingresso della sua tenda durante il caldo del giorno Abramo alzò gli occhi ed ecco che scorse tre uomini i quali stavano dinanzi a lui perché colleghiamo questo brano a quello che dice Gesù perché in questo brano questo è l'unico brano dove Abramo incontra Dio in forma umana nelle altre volte Abramo sente la voce di Dio ma in Genesi 18 lui vede una forma antropologica una forma umana che è identificata in Dio si parla di manifestazione di Dio in forma umana una teofania quindi ovvero manifestazione di Dio anche Isacco anche Giacobbe ebbero questa esperienza Genesi 19 24 allora l'Eterno fece piovere dai cieli su Sodome e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno guardate l'Eterno fa piovere fuoco e zolfo da parte dell'Eterno quanti Geova ci sono due uno esegue e l'altro ordina nella traduzione della Nuovo Mondo naturalmente questo brano non poteva rimanere così allora Geova fece piovere zolfo e fuoco su Sodoma e Gomorra vennero da Geova dai cieli vedete che c'è la differenza allora se voi proprio per dimostrare in questo caso non tanto la divinità di Gesù ma la trinità voi dite qui ci sono due Eterni uno che comanda e uno che esegue e lui legge testimoni di Geova questa versione la loro Bibbia e dice no allora Geova fece piovere zolfo e fuoco su Sodoma e Gomorra vennero da Geova dai cieli quindi qui ce n'è uno hanno cancellato uno io non conosco l'ebraico ma per mia passione ho studiato il greco allora sono andato a vedere la settanta che vorrei ricordare il codice di Leningrado è dell'1008 dopo Cristo milleotto la settanta è del duecento avanti Cristo quindi c'è una distanza di mille e duecento anni quindi la traduzione della settanta sebbene non sia la base per le traduzioni odierne dell'antico testamento perché ovviamente viene tradotto in ebraico ma la settanta è molto autorevole e in greco abbiamo tradotto e il signore fece piovere su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del signore questo dice la settanta ed è io ripeto non conosco l'ebraico ma sono sicuro che è perfettamente in linea con quanto dice l'ebraico anche di quel passo questo da parte è molto importante perché questo termine para unito al genitivo curio vuol dire da parte di quindi da parte del signore quindi ci sono due signori è importante perché se voi parlate con un testimone di Geova su questo brano avete due versioni differenti e quindi voi dovete avere dalla vostra un testo in questo caso la settanta per dire no le cose non stanno così andiamo avanti Dio e Gesù ripeto qui per Dio intendo sempre il padre Dio e Gesù sono chiamati signore dei signori quindi Deuteronomio 10 17 l'Eterno il vostro Dio è il Dio degli Dei il Signore dei Signori quindi è naturale che nessun altro al di fuori dell'Eterno può essere chiamato Signore dei Signori prima Timoteo 6 15 16 è Paolo che dice sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano il Re dei Re e Signore dei Signori il quale solo possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile il quale nessun uomo ha visto ne può vedere al quale siano onore e potenza eterna Amen questo è un brano che al testimone di Gerobo piace molto perché si parla di Dio non si parla di Gesù qui si parla di Dio ma come mai in Apocalisse 17 14 è scritto costor guerreggeranno contro l'agnello e anche il testimone di Giova dirà è ovvio il Signore Gesù e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori e il Re Dere ma quanti Signori dei Signori ci sono? due uno tre quanti ce ne sono? anche Gesù viene chiamato così e ribadisco che chi scrive l'Apocalisse è un ebreo monoteista è Giovanni quindi se un ebreo strettamente monoteista sentiva un'altra persona che non fosse Dio a essere chiamata Signore dei Signori faceva un salto dice ma come? ma l'unico Signore dei Signori è Dio Apocalisse 19 16 non è finita e sulla veste sulla coscia porta scritto questo nome Re dei Re Signore dei Signori è un nome del Signore Gesù Signore dei Signori ovvero il padrone assoluto di tutto e di tutti ma soltanto Dio poteva rogarsi il diritto di essere definito così quindi vedete anche qui abbiamo un altro bellissimo collegamento ecco è qua l'appellativo io sono noi sappiamo che io sono è il nome che ad un certo punto il Signore rivela a Mosè in Esodo capitolo 3 io sono il Dio di tuo padre il Dio di Abramo il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe io sono in Marco capitolo 12 versetto 26 è scritto quanto poi ai morti alla loro risurrezione non avete voi letto nel libro di Mosè nel passo del pruno come Dio gli parlò dicendo io sono il Dio di Abramo il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe quindi ancora io sono Esodo 3 14 io sono colui che sono e anche direi così ai figli di Israele io sono mi ha mandato a voi ovvero Mosè nel tornare in Egitto quindi andando in mezzo al popolo di Israele doveva dire questo è il nome di Dio io sono Yahweh il tetragramma è lui che mi ha mandato e noi sappiamo che inizialmente il popolo di Israele rifiutò Mosè non credette in lui ma in Giovanni 8.58 brano che abbiamo letto prima Gesù dice in verità in verità vi dico prima che Abramo fosse nato io sono questa è la traduzione del nuovo mondo quindi quando vi parlate con un testimone di Gero lui vi leggerà questo verso in verità sì in verità vi dico prima che Abramo nascesse io c'ero capite che è diverso allora qui abbiamo un tempo presente qui abbiamo un tempo al passato io c'ero testo greco non ve lo leggo vi leggo la traduzione letterale disse a loro in verità in verità vi dico prima che Abramo esistesse io sono ego eimi se uno studente del ginnasio prima superiore traducesse ego eimi con io c'ero gli danno due gli danno due perché non è possibile che io possa tradurre ego eimi salvo rarissime eccezioni dove si parla del presente storico nella grammatica greca con io c'ero in questo caso perché è così pericoloso per l'attore di guardia questo brano perché questo ego eimi è in contrapposizione a genestai ovvero esistere verbo genoma in greco vuol dire esistere e qui abbiamo un tempo al passato prima che Abramo esistesse io sono è qui è qui la contrapposizione ed è qui dove praticamente gli ebrei nell'ascoltare queste parole lo volevano ammazzare signore lo volevano ammazzare perché lui qua si sta autodefinendo io sono andiamo avanti vado verso la conclusione perché non è che voglio adesso fare tutto perché ci sono veramente tantissime cose a Dio e al Signore Gesù appartiene la gloria salmo 24 questo brano che conosciamo tutti benissimo che lo cantiamo cantiamo anche queste parole alzate i vostri capi alzatevi o porte eterne e il re di gloria entrerà chi è questo re di gloria? è l'eterno degli eserciti egli è il re di gloria quindi chi è il re di gloria? l'eterno degli eserciti non ci vuole tanto per capirlo basta leggere l'eterno degli eserciti è il re di gloria e allora come mai Paolo in Prima Corinzi 2 dice non avrebbero crocifisso il Signore della gloria e qui la TNM non ha modificato tanto perché ha messo il Signore glorioso più o meno ci siamo il Signore della gloria ma quanti Signori della gloria ci sono qua per non parlare di quello che non ho messo per non parlare di quello che Gesù dirà in Giovanni 17 Padre glorificami della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse ma non è forse l'eterno degli eserciti l'unico re di gloria quanti ce ne sono come può un angelo come loro pensano che sia Gesù prima della sua incarnazione ovvero l'Arcangelo Michele come può essere l'Arcangelo Michele il Signore della gloria non è possibile il passo adempiuto in Cristo dal profeta Zaccaria un brano questo che dovrebbe veramente colpirci profeta Zaccaria disse Zaccaria 11 13 e l'eterno mi disse gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo al quale mi hanno stimato e io ho preso i 30 cicli d'argento e li gettai nella casa dell'eterno per il vasaio l'eterno degli eserciti preannuncia che sarebbe stato stimato 30 cicli d'argento pensate anche qui esco dall'argomento stimare Dio il prezzo di uno schiavo 30 cicli sappiamo il quale personaggio tutte queste parole si sono adempiute Matteo 26 15 che mi volete dare io ve lo consegnerò qui è Giuda che parla ed essi gli contarono 30 cicli d'argento più avanti presero i 30 cicli d'argento prezzo di colui che era stato messo a prezzo messo a prezzo dai figli di Israele e li dettero per il campo dell'osai allora a un testimone di Gero gli chiediamo chi è che deve essere stimato 30 cicli d'argento l'eterno e chi fu stimato nel nuovo testamento 30 cicli d'argento adempiendo quella profezia la risposta è solo il Signore Gesù davanti a chi ci si inginoccherà un giorno molto bello anche questo Isaia 45 23 dice in modo assolutamente lapidario ed è l'eterno che parla ogni ginocchio si piegherà davanti a me non davanti a un angelo non davanti all'arcangelo Michele ma davanti a me all'eterno queste parole le prende l'apostolo Paolo in filippesi e le trasferisce al Signore Gesù ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che ha di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto la terra continua alla gloria di Dio Padre il testimone di Gero con cui ho parlato loro mi hanno detto sì però l'obiettivo è glorificare Dio Padre ma questo brano ogni ginocchio si piegherà davanti a me viene realizzato in Cristo perché è ovvio che Gesù è stato sovranamente innalzato perché lui si era omigliato non si è auto innalzato Gesù se si fosse auto innalzato avrebbe peccato di presunzione invece ha lasciato che fosse Dio a innalzarlo in un modo sovrano non vi dico com'è qui in greco che è un superlativo assoluto vuol dire esaltato che non si può neanche immaginare esaltato oltremoto è anche difficile da tradurre quel termine e gli ha dato il nome che è di sopra di tutti quindi credenti figli di Dio e increduli dovranno un giorno inginocchiarsi davanti a Cristo per noi sarà motivo di gioia ma per un incredulo sarà motivo di sarà una grande tragedia sapete che ultimamente è deceduto uno dei più grandi atei scienziati di fama uno scienziato di fama mondiale Stephen Hawking che ha sempre negato l'esistenza di Dio quando ho saputo della sua morte mi sono venute le lacrime agli occhi con chi ti incontrerai adesso lì non sarai più come eri in terra un uomo con tanti handicap fisici le tue ginocchia si piegheranno ma per te è troppo tardi e questo vale per tutti quelli che hanno preferito le tenebre alla luce ma le tue ginocchia dovranno piegarsi davanti al Supremo davanti all'imperatore celeste tu ti dovrai inginocchiare per me che mi inginoccherò sarà motivo di tripudio per te motivo di pianto per te è troppo tardi ecco perché fratelli e sorelle dobbiamo impegnarci dobbiamo impegnarci a proclamare Cristo ai testimoni di Geova e a chi non è testimoni di Geova a tutti quanti a tutti quanti perché un giorno le loro ginocchia dovranno piegarsi ma se non c'è ravvedimento se non c'è conversione se non c'è nuova nascita sarà purtroppo troppo tardi guardiamo l'ultima slide è l'ultima l'ultima no 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 è l'ultima però per oggi ok no perché sono già quasi 50 minuti che parto allora Dio e Gesù hanno lo stesso attributo di pastore Isaia 40 versetto 9 e 11 via le città di Giuda ecco il vostro Dio come un pastore ripascerà il suo gregge raccoglierà gli agnelli in braccio se li torrà in seno e condurrà pian piano le pecore che allattano qui in Isaia 40 Dio viene identificato come il pastore che si prende la pecora e se la mette sulle spalle non vi fa venire in mente niente questa immagine? chi è l'unico nel Nuovo Testamento che poteva dire io sono il buon pastore e do la mia vita per le mie pecore e non soltanto nel Nuovo Testamento ma anche in Michea 5 che è un brano messianico che cosa dice il Signore ma da te o Betlemme frata piccola per essere fra i migliaia di Giuda da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele le cui origini risalgono ai tempi antichi ai giorni eterni egli starà là e pascerà il suo gregge con la forza dell'Eterno con la maestà del nome dell'Eterno del suo Dio io sono il buon pastore Giovanni 10 Pietro dice Pietro lo definisce pastore ed escovo delle anime nostre e sommo pastore in prima Pietro 5 4 ovvero lo stesso attributo che nell'Antico Testamento è rivolto a Dio stiamo parlando non di gentili stiamo parlando di ebrei strettamente monoteisti che conoscevano perfettamente lo Shema ebraico qual è lo Shema ebraico? ascolta Shema ascolta Israele il Signore è l'unico Dio questo viene chiamato lo Shema del popolo di Israele ascolta Israele il Signore è l'unico Dio ed è l'unico che può definirsi pastore anche come mai Gesù si arroga il diritto di dire io sono il buon pastore perché evidentemente è esattamente Dio come lo è Dio Padre fratelli e sorelle mi fermo qua ma vedete quanta carne e fuoco c'è e non ho finito perché ci sono altri attributi che vengono indicati per Dio e vengono indicati ugualmente per il Signore Gesù questo è un primo passo che noi siamo chiamati a fare quando parliamo con un testimone di Geova adesso non oso immaginare quando metterò questo video ma io ringrazio e vorrei che tanti testimoni di Geova ascoltassero sapete loro non possono quindi se lo fanno trasgrediscono non possono ascoltare materiale che è contro di loro ma in realtà il mio e il nostro vuole essere un aiuto perché vorrei ricordare che in Italia ci sono duemila cinquecento congregazioni sono tante duemila cinquecento congregazioni le chiese dei fratelli sono duecento assemblee duecentodieci testimoni di Geova anche forse più di duemila cinquecento è la terza religione in Italia quindi ce ne sono tanti io li vedo girare in paese costantemente continuamente instancabili fratelli e sorelle sono anche loro da evangelizzare ma come ripeto dobbiamo avere delle basi per poter parlare con loro non è come parlare con un ateo non è come parlare con il nostro vicino di casa che non conosce niente della Bibbia loro la Bibbia la conoscono sotto certi aspetti a tutti purtroppo sono stati avvelenati e prima di tutto dobbiamo togliere questo veleno in modo tale che loro possano veramente conoscere il Gesù della Bibbia bene fratelli e sorelle io vi voglio ringraziare sempre per la pazienza che mi mostrate per l'affetto che mi mostrate e se il Signore vorrà la prossima volta proseguiremo iniziando a vedere un po' più da vicino quei versetti manipolati adulterati nella traduzione del Nuovo Mundo e sono versetti importanti perché sono versetti dove in modo esplicito viene detto che Gesù è di ok quindi vi ringrazio al Signore vada la gloria e ricordiamoci questo studio anche per il nostro bene ricordarci che Gesù è il Supremo è il Signore dei Signori che ha promesso che tornerà amén amén